C'è qualcosa che non funziona nel network marketing? Questa domanda penso che sia destinata a causare qualche controversia. Se non mi conosci, prima di tutto sono Mirko Lanfranchi, networker professionista e da anni aiuto le persone a raggiungere la propria indipendenza economica con chiaramente il network marketing. E in questo video voglio spiegarti appunto il mio punto di vista rispetto a questa domanda. Se infatti c'è qualcosa che non va nel network marketing. Alcuni leader del settore non vogliono che venga posta l'attenzione su cose che sono palesemente sbagliate con il network marketing. Ma dal mio punto di vista questi problemi devono essere affrontati e corretti. Perché? Perché come dico sempre io, il network marketing non è perfetto ma è sicuramente la migliore attività imprenditoriale in circolazione. Infatti, francamente, penso di avere una visione diversa del settore rispetto ai leader ortodossi della vecchia scuola. Ora, non sto dicendo che io ho la ragione assoluta, che sono portatore di ragione assoluta e tutti gli altri che hanno torto. Penso che dovrai decidere tu stesso e vedere cosa funziona meglio per te. Ma ora ti dirò esattamente cosa credo sia sbagliato e cosa possiamo fare a riguardo per migliorare. Che cosa c'è di sbagliato oggi in questo business? Tanto per cominciare, la mancanza di formazione è basata su competenze pratiche. È la prima cosa che non va nel network marketing. Questo è il motivo principale, infatti, per cui i networker cercano formazione da terze persone e quindi si allontanano magari dai propri sponsor. Anche chiaramente a causa del fatto per cui la maggior parte degli eventi aziendali sono prevalentemente di tipo pubblicitario, cioè non insegnano un metodo concreto. Ovviamente, chiaramente, non capita così in tutte le aziende, ma la maggior parte degli eventi aziendali sono solo pieni di entusiasmo e hanno una formazione molto limitata di sostanze e competenze. Infatti questo è un grosso problema perché ci sono molte false aspettative quando le persone vengono introdotte per la prima volta nel settore e tutte quelle false aspettative fanno sembrare che sarà più facile di quanto non sia in realtà. perché è un'attività. Inoltre, non vengono formate correttamente le persone. In realtà, spesso non si ha alcun sistema per insegnare alle persone un vero processo passo passo. Questo è un grande problema. Il motivo per cui il network marketing non è preso sul serio è perché l'appline non addestra i propri collaboratori a gestire un vero business. Ad esempio, se partecipi ad una conferenza di marketing per chiropratici, si parlerà molto degli aspetti pratici del marketing e delle vendite. C'è una vera e propria formazione basata su queste abilità pratiche. Ma nel network marketing spesso ti dicono Sì, dai, porta più persone, sarà facile. Oppure non si tratta di vendere, si tratta di condividere. Il fatto chiaramente di pensare che non sia una vera professione è un problema reale. Tutto a inizio dal fatto che si dà troppa enfasi e questo deve cambiare perché ciò dà a questo settore una brutta reputazione. È tutto basato sull'emozione. Il fatto è che le persone non stanno ricevendo una vera formazione aziendale. Anche se gli viene detto è un vero business. Io ho cominciato a lavorare online per la prima volta perché qualcuno che ho trovato via internet era disposto a insegnarmi una tabella di marcia che era orientata al processo per raggiungere i miei obiettivi. Ed è esattamente quello che sono stato in grado di fare. È stato facile? Beh, direi che rispetto a lavorare 48 ore a settimana o anche di più come facevo io prima per esempio, per 40 anni assolutamente è sicuramente più semplice. Ma ci è voluto molto lavoro. Mi ci sono voluti un paio di anni per padroneggiare pienamente le competenze che mi hanno permesso di costruire il mio business online. Comunque, indipendentemente dal modo in cui costruisci la tua attività, puoi imparare competenze che sono migliori e più efficienti della maggior parte di quelle che trovi lì fuori in questo momento. Ad esempio, online, offline, sono necessarie competenze e formazioni adeguate. Un'altra cosa che non va in alcune aziende di network marketing è che si mette troppa enfasi sul reclutamento. Quello che è sbagliato è essenzialmente la costruzione della propria attività reclutamento-centrica. Molte aziende, ma anche molti networker, si concentrano esclusivamente sull'inserire nuove persone e non abbastanza sulla generazione di clienti e sulla generazione di fatturato. Ciò trasforma qualsiasi azienda in uno schema piramidale nascosto che potrà causare problemi anche con la legge. Ma questo non è il solo problema. Bisogna fare fatturato, vendite per diverse ragioni. Innanzitutto perché puoi anche reclutare così tante persone che alla fine riesci a massimizzare e può accadere che ci sia anche tanto consumo personale. Sicuramente potresti essere in grado di fare molti soldi in questo modo. Ma alla fine tutto questo si esaurirà, tutto questo volume, perché non c'è sotto la vendita dei clienti. Ecco perché vedi troppo networker che si uniscono a un'azienda, sfruttano il momento buono, fanno razzia e guadagnano immediatamente un sacco di soldi. Ma poi, all'improvviso, i loro numeri iniziano a diminuire. E cosa succede dopo che il loro reddito inizia a diminuire? Passano a un'altra azienda, si mettono di nuovo in moto e fanno più soldi solo attraverso il reclutamento. Quindi non effettuano nessuna vendita al dettaglio, non hanno clienti. Il loro volume è principalmente il consumo personale di coloro che hanno iscritto in azienda. Quindi, alla fine il loro reddito diminuisce e quindi va a finire che cambiano di nuovo azienda. E il ciclo si continua a ripetere. Altra cosa da considerare è che le persone travvisano il network marketing quando affermano che è come avere una propria azienda. Non è un'azienda, è una professione il networker. Sì, è una professione proprio come essere un medico, come essere un avvocato. Semplicemente avere una laurea e diventare un dottore, un avvocato non significa che hai un business. Nel modo in cui lo intende, ad esempio, Robert Kiyosaki dove descrive il concetto di quadrante del cash flow. Il network marketing non è un business per questi motivi. Primo, perché in realtà non hai nulla, non possiedi nulla. Non possiedi la tua downline, non possiedi la distribuzione. I prodotti non li fai tu. Possono essere portati via da te in qualsiasi momento se magari infrangi una regola o perché decidi di fare cose che magari all'azienda non piacciono e la tua azienda appunto si arrabbia. In ogni caso, se hai tutte queste restrizioni e regole non è un vero business. Non possiedi una vera tua azienda e non c'è niente di sbagliato in questo. Lo sto dicendo, anzi, a certi punti di vista è meglio. Se hai intenzione di definirlo utilizzando il quadrante del cash flow, il network marketing è un tipo di affare A, cioè come lavoratore autonomo. Sei praticamente un appaltatore indipendente. In sostanza, sei responsabile della produzione delle vendite per un'azienda e ricevi commissioni pagate in base a tali vendite. E, chiaramente, se costruisci una squadra puoi avere commissioni anche in base alle prestazioni dei tuoi incaricati e dei tuoi collaboratori. Ma questa non è la stessa cosa di essere in affari per te stesso appunto. Ora, ripeto, non c'è niente di sbagliato in questo, anzi, è un punto di forza. Devi solo riconoscere questo aspetto, tutto lì. È importante però sottolineare che puoi trasformare la tua rete di distribuzione in un'azienda. E questo è anche ciò che insegno nella mia masterclass di reclutamento, reclutamento online gratuito, come creare un sistema che acquisisce clienti e collaboratori con il pilota automatico e in maniera prevedibile ogni singolo giorno, anche se parti da zero e pensi di non avere competenze. Questo è quello che io offro all'interno di questa masterclass. Ora, quando includo nella mia lista di cosa c'è che non va nel network, il pensiero che tu sia un imprenditore, non intendo che questo sia qualcosa che in realtà sia sbagliato appunto in questo settore. Penso invece che ciò che è sbagliato è come le persone lo percepiscono, perché sono portati a credere che stanno costruendo un vero business, ma non è vero. In realtà stanno sviluppando le competenze per una nuova professione. Questo è quello che stai facendo quando sei nella A del quadrante di Kiyosaki. Hai determinati skillset specifici di questa professione, proprio come essere un dottore o un avvocato che hanno competenze molto specifiche nel loro settore, ma ciò non significa che siano titolari di attività commerciali. Ad esempio, se un dottore o un avvocato decidesse di espandere la sua attività collaborando con altri dottori, con altri avvocati, creato una società o un accordo di qualche tipo in cui chiaramente fossero partner, allora si tratterebbe di un vero business, perché l'attività continuerebbe a generare profitto, anche se qualcuno dovesse andarsene. E sicuramente il network marketing ha alcuni elementi che ti consentono di prenderti una vacanza, ma dove continui ancora a ricevere un flusso di denaro. Ma se dovesse succedere qualcosa di grosso, come il fatto ad esempio che l'azienda chiuda, sei fregato, chiaramente. Non hai alcun controllo su questo, perché l'azienda non è tua. Ecco perché bisogna trovare aziende solide, perché è l'azienda di qualcun altro. Ora, voglio chiarire una cosa prima di andare avanti. E' possibile creare una vera azienda grazie alla creazione del tuo brand. Infatti puoi convertire la tua rete di distribuzione in un vero business. Attraverso che cosa? Attraverso la costruzione di un marchio che controlli tu, di un tuo brand. Quindi la tua attività di network diventa solo una parte della tua strategia aziendale, la strategia aziendale complessiva. Puoi farlo attraverso la creazione di una presenza online, cioè la crescita di un elenco di mail ad esempio in cui hai il controllo delle tue comunicazioni oppure con i tuoi collaboratori, con i tuoi clienti o con i tuoi potenziali contatti e anche la creazione dei tuoi prodotti personali. E' così che crei un seguito e costruisci un marchio. E' chiaramente così un vero business. E una volta sviluppato un seguito al di fuori della tua azienda avrai una leva. Perché se dovesse succedere qualcosa alla tua società di network marketing avrai comunque il tuo marchio. Quindi potrai continuare a lavorare. Ora la tua reputazione si basa sul fatto che le persone conoscono, apprezzano e si fidano di te. E chiaramente le tue entrate si basano sulla lealtà delle persone nei tuoi confronti e non sulla loro lealtà verso una determinata azienda. E' qualcosa che puoi controllare e sfruttare questo. L'ultima cosa che non va nel network marketing è la meschinità, come la chiamo io. Perché molti dei migliori networker sono viziati. Cioè hanno raggiunto i loro guadagni con competenze molto specifiche e questa è diventata la loro verità che difendono a tutti i costi e per qualsiasi motivo si rifiutano di riconoscere che ci sono altri modi che possono generare entrate efficaci. Questo crea una mescanità in sicurezza tra i leader più importanti. E il loro ego dice so la verità so come è costruita questa attività e punto. Quindi quando arriva qualcun altro che lo fa in modo diverso questo minaccia il loro sistema di credenze su quanto siano giusti. Dall'altra parte chiaramente questo è un contrasto su come agisco io a riguardo. Quando sento che qualcuno sta facendo qualcosa di diverso in un modo più efficiente magari migliore usando metodi diversi eccetera io cosa faccio? Provo immediatamente a scoprire cosa sta facendo come lo sta facendo e così cosa faccio? Posso vedere se incorporare quelle strategie nella mia attività posso vedere se posso migliorarmi ma sfortunatamente non è sempre così che operano i migliori nel network marketing e penso che abbia anche a che fare con la loro mancanza di esperienza aziendale reale quindi penso che ci debba essere un po' più di umiltà tra molti dei migliori e più è alto il guadagno più è grande l'ego questa meschinità secondo me deve sparire perché il fatto è che oggi abbiamo molti modi diversi di costruire questo business rispetto a anni fa un paio di giorni fa ad esempio ho parlato con una donna che era una delle migliori nella sua azienda ha costruito la sua organizzazione assumendo un blogger che scrivesse delle sue cose infatti assume costantemente i blogger per fare recensioni sui suoi prodotti e sulla sua azienda e questa è la sua strategia e ogni settimana ha un nuovo blogger che scrive della sua attività e quindi la mia risposta è stata ma non ne ho mai sentito parlare che strano il fatto è che abbiamo un'industria straordinaria e che le persone hanno diversi modi di lavorare e che dovrebbero essere abbracciati non evitati secondo me così il gioco è fatto questo è ciò che a mio parere non va nel network marketing mi piacerebbe vedere che queste cose vengano corrette e che cambi la mentalità di alcuni leader vedremo vedremo io non ti consiglio di rimanere senza fiato per quello che ho scritto infatti non fare l'errore di pensare male perché c'è molto di cui essere grati per questa attività che cosa c'è invece di giusto nel network marketing c'è molto di giusto nel network marketing e le mie critiche non sono in alcun modo un tentativo di mettere in cattiva luce il settore anzi io ne faccio parte e vada bene che sono un networker anch'io quindi assolutamente lungi da me in conclusione non c'è nessun altro settore non c'è nessun'altra professione che ti consente di avviare un'attività di tipo A come lavoratore autonomo e di spostare in un'attività di tipo B come azienda a un costo così basso questi sono i vantaggi non c'è nient'altro di meglio al confronto quindi la cosa più importante è la possibilità di iniziare in questo settore partendo da zero e avere un potenziale di reddito illimitato nonostante un costo di avvio che non c'è e su questo aspetto vorrei anche dire qualcosa a riguardo alcune persone si lamentano di aver speso molti soldi nel network marketing e che non ha funzionato per loro bene le persone possono avere la mia comprensione per molte cose ma provarci per sei mesi investendo qualche centinaia di euro senza formarsi adeguatamente al riguardo prima di arrendersi e poi lamentarsene non è uno di questi questo problema ha a che fare più di tutto con l'entusiasmo le aspettative che non sono realistiche alla fine perché in qualsiasi attività anche se avessi iniziato a studiare come avvocato avrai bisogno di un investimento iniziale per iniziare soprattutto di tempo e se non va bene probabilmente sarai fuori decine se non centinaia di migliaia di euro non ho parlato di rischio in che cosa c'è di sbagliato nel settore perché in questo settore non c'è praticamente rischio rispetto a qualsiasi altra opportunità quindi ancora una volta ciò che è giusto è il basso costo dell'attività e il potenziale di altissimo reddito e poi si impara tutto ciò che è giusto è anche la radicata cultura dello sviluppo personale appunto si lavora molto su se stessi è divertente perché là fuori c'è così poca formazione basata sulle competenze però e penso che questa industria provi a rimediare essendo follemente brava ad aiutare le persone con lo sviluppo personale aiutandole a superare i propri demoni i demoni personali in modo che possano andare avanti e alla fine capire questo settore questo è l'obiettivo ho ottenuto un quantitativo così alto di formazione di sviluppo personale e di persone dove non ho pagato di più per questo che chiaramente non posso spiegarlo abbastanza questo è uno dei motivi per cui ho perseverato così a lungo in questo settore dato che ero disposto a perseverare grazie alla formazione sullo sviluppo personale che ho ricevuto e quindi lo sviluppo personale è sicuramente ciò che è giusto in questo settore assolutamente nessun altro settore può reggere il confronto tutte le cose che ho imparato sono state incredibili infine la cosa bella è che non c'è nulla che possa duplicare il potenziale del successo insito nell'opportunità del network marketing la verità è ciò che amo veramente del network marketing è che mi ha salvato dalla mediocrità dato il mio background come direttore sportivo di un campo da golf il mondo era la mia ostrica a livello professionale per quanto riguarda alcune persone entrare a far parte di questo mondo lavorare all'aperto e stare 12 ore al giorno in quel posto dove lavoravo prima e cercando di soddisfare le esigenze del datore di lavoro e dei clienti sembrava fantastico quello che facevo prima per molti ma non mi è piaciuto quello che stavo facendo e cosa succedeva? che mi sentivo come se mi mancassi il respiro se avessi semplicemente deciso di continuare a lavorare in un lavoro in qualche cosa che non mi piaceva mi mancava il fiato non importa quanto venissi pagato per me quella era mediocrità non essere felice a pagato per quello che stavo facendo è stato un problema per me a livello emotivo e l'unica opzione che qualcuno mi ha offerto in alternativa era il network marketing e questa industria mi ha salvato dalla mediocrità e sta salvando anche le persone di tutto il mondo dalla mediocrità anche se alla fine non dovessi finire per costruire una grande attività di network marketing questa comunque è una porta verso il mondo dell'imprenditorialità si tratta di un passaggio che ti aiuta a pensare in modo diverso questa è la cosa importante è un trampolino per lo sviluppo personale ed è una porta verso altre opportunità che altrimenti potrebbero non esistere se non hai l'apertura mentale sufficiente salvare le persone dalla mediocrità penso sia il motivo principale per cui dovremmo tutti sostenere questa professione pur essendo allo stesso tempo aperti e critici nei confronti delle cose sbagliate e che possono chiaramente essere migliorate non penso sia una cosa irragionevole non trovi quindi per ricapitolare cosa c'è di sbagliato nel network marketing allora la mancanza di formazione basata sulle competenze che crea false aspettative e lo fa sembrare troppo facile modelli di solo reclutamento che non sono sostenibili credere che il network marketing sia un business e non una professione quattro la meschinità gli ego e le insicurezze di molti dei top performer perché non operano come un vero imprenditore e ancora vediamo invece che cosa è giusto nel network marketing bassi costi e alto potenziale di reddito sviluppo personale radicato salvare le persone dalla mediocrità dobbiamo essere in grado di guardare ciò che è buono e cattivo ciò che è sbagliato e ciò che è giusto e cosa è più importante cosa funzionerà e non funzionerà per te e la tua azienda quindi in funzione di quello che ti ho scritto se sei pronto per iniziare ad apprendere competenze aziendali reali ok allora ti incoraggio vivamente a guardare il mio video training gratuito dove scoprirai la formula di marketing dell'attrazione cioè una tabella di marcia completa per costruire rapidamente la tua macchina di reclutamento automatizzata di internet imparerai quindi a conoscere tutti gli strumenti e le tecniche specifiche che puoi realizzare per connetterti con i potenziali clienti sui social media senza dover mai più rincorrere nessuno quello che scoprirai nella mia masterclass gratuita che è quasi due ore di masterclass ti consentirà di costruire la tua attività automaticamente dove le persone ti verranno a cercare invece di cercarle tu la cosa fondamentale è che al giorno d'oggi non hai più bisogno di rincorrere le persone per costruire un business di successo non ti dovrai più preoccupare se i tuoi potenziali clienti si allontanano eccetera e non dovrai più bombardarli con un flusso continuo di spam di messaggi spam eccetera con queste strategie puoi iniziare ad attirare coloro che sono già interessati alla tua attività puoi approfittare di questi metodi a partire da oggi indipendentemente da quanta o poca esperienza di reclutamento online hai attualmente fidati di me una volta imparate queste abilità di marketing di attrazione online le persone saranno attratte dalla tua leadership e pronte per iniziare quindi se vuoi saperne di più cosa devi fare basta fare click sul link che trovi da qualche parte vicino a questo video vai a vedere e ti aspetto dentro ci vediamo con stima e affetto un abbraccio da Mirko Lanfranchi e alla prossima ehi grazie mille per aver guardato questo video se ti è piaciuto questo contenuto sentiti libero di iscriverti a questo canale cliccando sul pulsante che trovi in questo video oppure qui sotto per non perdere tutti i video futuri se vuoi lascia anche un like o un commento e ti risponderò appena possibile sentiti anche libero di contattarmi attraverso il mio profilo Facebook o Instagram intanto ti lascio i video consigliati per te ciao a presto